Occhio alla sostituzione di caldaie per l'efficientamento energetico. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che all'interno della città di Teramo è avvenuta una denuncia da parte dell'ANIEM Teramo riguardante la sostituzione del sistema di riscaldamento delle abitazioni o di riscaldamenti riguardanti ambienti pubblici. Si stanno creando delle società che hanno per tutta la volontà di proporre all'utenza una sostituzione dell'impianto di riscaldamento energetico per poter poi ottenere dei contributi dallo Stato. Questi contributi definiti in conto termico riguardano degli incentivi statali che permettono di poter rinnovare il proprio impianto di riscaldamento energetico. Ci sono delle società che propongono dei pacchetti completi che vanno dalla sostituzione della caldaia fino al riempimento della modulistica necessaria per ottenere questi incentivi. È proprio in questa fase che le società in questione attuano un comportamento sleale che va a ledere la concorrenza del libero mercato. In particolare queste società attuano un atteggiamento scorretto e pongono nei confronti dell'utenza la possibilità di ricevere dei contributi in quantità sempre maggiori. La combinazione errata di questi moduli porta dei gravi rischi per l'utenza che nel momento in cui riceverà un controllo della pratica potrebbe sostenere dei costi molto elevati in quanto le richieste che vengono effettuate non hanno una corretta validità. Noi come associazione di consumatori ci riteniamo solidari nei confronti della denuncia dell'ANIEM Teramo e ci proponiamo di essere collaboratori parteattivi nella denuncia di questo comportamento scorretto che come dicevo lede non solo il libero mercato ma anche quello che riguarda il diritto dei consumatori. Come deve comportarsi dunque il cittadino quando gli viene proposta appunto la sostituzione di una caldaia? Sicuramente l'informazione anche tramite altre associazioni è fondamentale. Avere un'informazione completa ci permette di non poter cadere all'interno di questi tranelli. Soprattutto sapere quali sono i rischi che comporta la sostituzione della caldaia e nel particolare informarsi del dettaglio della modulistica da dover consegnare.